action vincent lionaft 4000 iscritti anche più grazie grazie infinite a tutti voi miei carissime fans contro tutte e tutti ho dovuto lottare e ce l'ho fatta il signor vincent lionaft e prossimamente entro fine settembre massimo i primi di ottobre voglio 5000 iscritti quindi iscrivetevi al canale voi che non siete ancora iscritti tenete sempre attivata la campanellina like ai video commenti possibilmente positivi e condividete su tutti i social su facebook su instagram su twitter su vk su telegram quanto più possibile diffondere il sacro verbo di vincent lionaft alla prossima puntata oh yeah